Partita molto combattuta, Ertopo non molla, non molla neanche Mirko che ha fatto due strike, andiamo a vedere, andiamo a immortalare anche i tiri, attenzione, mancano due tiri, 89, 88, io sono a 88, io sono 87, puoi lisciarla, puoi lisciarla per piacere, commenta a caldo, i caldo e i pantaloni, liscio, liscio, e tre, e tre, e tre, commenta a caldo, chi vince questa partita? No, Benz, qui vince, non vinco io, attenzione, attenzione, qui c'è un pronostico di Momo, liscio, grande, grandissimo Felix, grandissima Ertopo lisciato, e adesso qua, io a questo punto, signori amici di YouTube, riprendo la palla tua, riprendo la palla tua, allora io lo voglio dire agli amici di YouTube, proprio voglio passare proprio anche la terra che carpesto, simbolicamente, che miseria, mancano due, ce la facciamo? Paglio, buia. Grazie a tutti. Grande, grandissimo, grandissimo match, non mollo, non mollo, non mollo. Ragazzi attenzione, qua c'è un po' di delusione, è la scommessa, avevi scommesso un euro? Vistoria di Marco. Avevi scommesso un euro? Chi vince? Marco. 5 euro che vince Marco? 5 euro che vince Marco. Grande, grande, ti comincia a tirare fuori i soldi. Signori, questo è un momento, è un momento di... Un euro? Un euro, una pesca. No, ma qui vedi i soldi per recuperare, attenzione, malocchio, liscio, liscio. Oh, oh, eh, eh. Dai, grazie a tutti, grazie. Oh, grazie a tutti. Signori.